San Siro si è spellata le mani, la prudezza di un campione non ha confini di bandiera o di appartenenza e i complimenti a Yuri Giorcaef sono giunti dall'arbitro e dagli avversari. Il 28enne francese ha significato tutto per l'Inter. Sterkele costantemente nel mirino, una squadra che l'ha cercato e che ne ha intuito oggi la freschezza e la determinazione. Due formazioni con allenatori alla ricerca della costante credibilità, due formazioni ancora le prese con comuni problemi di condizione e dunque hanno deciso i colpi d'autore. Già al decimo Zanetti ha indovinato il pallonetto perganza che ha sorpreso Sterkele ed una retroguardia stranamente assopita. Bianchi ha scelto Totti del Vecchio, l'ex voglioso di prodezze, preferendoli a Fonseca e Balbo, qualcosa come 30 miliardi in via di svalutazione. La Roma, priva di di viaggio, ha corso poco senza palla, dando una chiara impressione di modestia caratteriale, almeno oggi. Nell'Inter, Branca e Dins è squalificati, meriterebbe più considerazione Maurizio Gans, persino beccato dal pubblico nerazzurro. Dal suo piede sinistro sono partiti assist precisi, qui Zamorano scheggia la traversa, e l'azione che ha permesso a Giorcaef di chiudere il primo tempo sul 2-0. In apertura di ripresa, con Balbo in luogo di statuto, Del Vecchio ha sfruttato l'unico errore della retroguardia nerazzurra, seminando in corsa Paganine, Galante e trafiggendo così Pagliuca. Ma questa è la fine della corsa giallorossa. L'Inter non si è fatta prendere dalla sindrome della rimonta, ha trovato in Zanetti anglo-mais-forza sponde efficaci ed ha chiuso i conti al 23esimo con un'altra perla, stavolta di Salvatore Fresi, su illuminazione di Giorcaef. Il ragazzo sardo, che sognava la maglia di Baresi in azzurro, ha timbrato il suo primo gol in Serie A. Sì, sono contento e lo dedico a mio padre e a mia madre. Yuri Giorcaef apre letteralmente il suo cuore. Io ancora trovo fresco la testa per pensare al gol, solo mi ricordo gli applausi ai tifosi di tutti in stadio. È una cosa verità, veramente bella, che guarda il mio cuore per tutta la mia vita. Abel Balbo ed il codice cifrato dell'accusa. I sacrifici dobbiamo farli tutti, non solo noi, per esempio io che devo rinunciare alla mia nazionale, sto di più a Roma per giocare, tutti quanti, però non voglio essere l'unico a fare i sacrifici. Le facciamo tutti o sennò ognuno inizia a pensare per sé e lo farò anche io.